Si è data continuità al tennis di un certo livello nella nostra città, in termini sportivi, organizzativi e di risposta alla città. Noi l'abbiamo detto più volte in questi cinque anni, Napoli città dello sport, quindi così è e così sarà sempre di più, dalle universiadi, alle olimpiadi, a tantissimi altri eventi sportivi. La città risponde, ci crede e cerca sempre di migliorarsi, attrezzandosi sempre meglio. Partirà il prossimo 2 aprile per concludersi domenica 10 la Capri Watch Cup, il challenger internazionale ATP del Tennis Club Napoli. Oggi alla conferenza stampa di presentazione il comitato organizzatori ha illustrato il programma tecnico del torneo, che nel cartellone ha i nomi dei campioni più importanti del tennis italiano ed è stato sostenuto dal mondo imprenditoriale napoletano. Il Capri Watch Cup è una delle manifestazioni che in questa primavera rappresenta un punto di forza della città, oltre che per lo sport, anche per l'attrattività turistica. Penso che questa città è pronta a sfide sempre più grandi. Siamo una delle città più importanti e attrattive del mondo, quindi non bisogna mai pensare di aver raggiunto una sufficienza accettabile. Bisogna guardare sempre avanti e migliorarsi sempre. Grazie. 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 Grazie.